A Teramo il 2023 è stato un anno molto proficuo dal punto di vista della ricostruzione privata. Lo confermano i dati dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che evidenziano la conclusione delle 534 pratiche sulle 739 presentate, tra danni lievi e danni gravi, per un totale di 380 decreti e 173 milioni di euro stanziati, somma che equivale al 42,44% dei contributi messi a disposizione per il cratere abruzzese. Per quanto riguarda i soli danni lievi è stato completato il 90,25% delle pratiche, 398 su 441, per un totale di 278 decreti e 64 milioni di euro concessi. Insomma è stato l'anno del consolidamento di un percorso che si sta portando a compimento, grazie al lavoro che è stato svolto tra il 2020 e il 2022, periodo nel quale è stato definito il cantiere normativo, quindi con le misure straordinarie, le misure speciali, che hanno consentito quindi alla ricostruzione privata di vedere una luce diversa e di incrementare i numeri. Così è stato nella nostra città più che nelle altre realtà del cratere sismico abruzzese. Per quanto riguarda i danni lievi abbiamo superato il 90% delle pratiche concluse rispetto a quelle presentate. Il dato significativo è quello dei contributi, che abbiamo 173 milioni di euro erogati in favore ovviamente dei cittadini terramani nel percorso di ricostruzione, che quota oltre il 40%, 42% delle somme complessive erogate sul cratere a fronte di un numero di danni che Teramo ha, che corrisponde al 10-12% rispetto all'intero cratere. Per quanto riguarda i danni gravi sono state lavorate 136 pratiche su 298 presentate, per un totale di 102 decreti emessi e 109 milioni di euro stanziati sul territorio. Si sta lavorando adesso per quanto riguarda le procedure relative ai danni gravi dove si è superato addirittura il 40%, quindi nel rispetto delle scadenze fissate dalla legge anche sui danni gravi si sta arrivando a numeri importanti. Chiaro che abbiamo scadenze diverse, legate anche al CAS, non dimentichiamolo, quindi adesso si sta procedendo con l'USR, la struttura commissariale, ad accelerare il percorso relativo alla ricostruzione dei danni gravi. Teramo in questo senso è capofila e guida questo percorso di ricostruzione e dovremmo andare in questa direzione auspicando che anche l'edilizia pubblica residenziale, penso le case ATER, finalmente possano vedere nella nostra realtà, nel nostro territorio, ovviamente un percorso che riporti le famiglie nelle loro abitazioni.